Allora fammi concentrare Mia bella piantina Sei molto carina E cresci in fretta E ragazzi come va? Io sono Fereniki Sì sono Stef E questo Giulio chiama Minecraft E siamo tornati nella Sky Grand Nella nostra isoletta Nello scorso episodio finalmente abbiamo trovato i diamanti Quindi ovviamente in questo episodio Ci creeremo il primo piccone in diamante E lo useremo per prendere L'ossidiana che c'è in quell'isoletta Vi faccio vedere quanto ho farmato Vi devo dire che alla fine pensavo Che sarebbe stato più lento Infatti ne ho farmato qualcuno extra Che magari potrà servire per diverse cose Quindi sono rimasto stupito che comunque In una trentina o quarantina di minuti Alla fine me la sono cavata Abbiamo sistemato lo spawner ovviamente Per farmare i mob Altrimenti sarebbe stato dieci ore Esatto Però con lo spawner finito è andata abbastanza bene Comunque prima di andare volevo far vedere al volo lo spawner Non l'hai fatto neanche vedere Scusami Quello che abbiamo sistemato E perché tanto è più o meno sempre la stessa cosa Vabbè facciamo vedere che l'abbiamo fatto Guardate che bellino Così appunto possiamo prendere i diamanti Molto più comodamente Comunque partiamo Non è una buona idea partire di notte Perché ho paura che ci spawnino Ovunque però facciamo finta di nulla Allora io mi sono buttato proprio come se non avessi nulla In realtà ho un piccone di diamanti Quindi fai attenzione Che se perdiamo Mi raccomando Non fare sciocchezze Mi raccomando Ok va bene Allora qua dobbiamo fare una bella piattaforma Perché non possiamo rischiare di far cadere nulla Perché sinceramente non so se l'ossidiana È giusta giusta o meno Non so se magari ce n'è una o due in più Per picconare l'ossidiana Devi restare cinque minuti ogni volta L'hai presa tu o l'ho presa io? Oh non lo so l'ho presa io L'ho presa io sì Mi stanno arrivando i blocchi Mi ruba l'ossidiana I blocchi in testa mi arrivano I blocchi in testa sì Per l'incente tempo Li prendo di testa Tre o quattro Fatto 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 Vediamo cosa c'è dentro Ok vediamo cosa c'è Sono curiosissima Allora devo bucare qua E qua Ok apri Smooth red Ok Ok Del melone E la pozione che cos'è? Jump boost Ok 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 Probabilmente serviranno a qualcosa Perché secondo me Non ti danno dei materiali inutili Insomma Cioè prendete anche la cesta Tutto Tutto Hai visto gli scheletri che ho messo? Gli scheletri? Questa La testa di scheletro Dove te l'hai tirata fuori questa testa? Quelli che si Quelli che droppano i diamanti Droppano queste teste Quindi a furia di mazza di diamanti Ho trovato anche le teste E mi sembrano carine È carinissima Guarda Oh belline Le altre due Sì Sai come le mettiamo? Le mettiamo fuori dalla porta Per far capire che siamo molto cattivi E che i mob Non devono azzardarsi Mi piace Azzardarsi a venire qui a scocciarci Guarda Hai ragione Come siamo minacciosi Così Facciamo paura a tutti Capito Come i trofei della serie Ho fatto fuori Aiuto 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 Mi giro un attimo Non funziona No non funziona Attenta Attenta Non funziona Non funziona Allora Allora il mio ragionamento era Abbiamo fatto fuori dei vostri simili Dovete avere paura Ma ho notato che non ha È piaciuto Pazienza Non gli è piaciuto No Possiamo crearla Ta 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 Ok Ok ci sono Dovrebbe essere tipo così Vada vada E così Apprezzo la sua creatività Sì Allora Aspetta Posso riuscirci Così Sì Aveva senso Sì aveva senso Aveva senso Ok è comparsa la nuova Allora aspetta Aspetta che deposito tutte le cose Ok ho dovuto ammazzare altri Altre mucchine comunque Ma te l'aveva completata La quest numero 11 Sì Ma la vedi che la vediamo ancora qui Sì lo so Lo so lo so È un bug Credo di sì Allora Ok farm attacco Of wart Creeper Non esplodere Creeper Mori 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 Ok Allora Sì Aspetta che c'è anche uno scheletro Non se vuoi visto che ci siamo Passo da queste parti Vi vedo E non resisto Anche perché il ferro Dobbiamo farmarcelo un po' Secondo me Ci potrebbe servire per fare delle armature Esatto esatto Allora È comparsa una nuova isolotta E ti dicevo Farm A stack Of wart Quindi una stack Di wart 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 Non so come si pronuncia Ma sono quelle piantine Lì sopra Che già vedo Che già vedo Esattamente Guarda che bello Allora io li inizio a mettere Anche se per ora Non è che servano Però Questa è tutta la Solstead che abbiamo Ok Assolutamente Tutta quella che abbiamo Quindi Non è male Non è male Dai ti dirò Sì non è andata malissimo Ci vorrà un po' di tempo Ma è un po' È un po' di tempo È un po' di tempo No certo Meglio è Poi depositiamo Queste cosettine Qua la redstone Che è il nuovo materiale Poi il coal Qui Io direi di mettere Un po' di torce Ok Subito lì Sì Sì Sono d'accordo Sono d'accordo Se no iniziano a comparire I mob la notte Anche lì Ed è un bel problemino Che vorrei evitarmi Quindi facciamo Ta 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 Prendiamo il grano Diamo da mangiare Alle mucche Così si riacoppiano E possiamo sterminarlo Un pochettino Poverina Ma E vabbè Ci servono i materiali Ci prepariamo un po' di cibo Ci prepariamo un po' di attrezzi Insomma Ci risistemiamo bene E poi aspettiamo appunto Che crescano un po' Queste piantine Ok Ok Ti piace? Ok Sì mi piace molto Ok allora inizia a prendere Ops Ho sbagliato Inizia a prendere il grano Allora Mucchette mangiate Forza È ora di accoppiarsi Sono troppo carine Quando fanno i culicini Allora fatemi entrare va Forza forza Su 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 Vogliamo vedere tante nuove mucchine qua Allora Allora Quindi abbiamo ripiantato tutto il grano Abbiamo sistemato le mucche Abbiamo sistemato la canna da zucchero Magari ci prendiamo un po' di legna Perché le mele ci serviranno in futuro Secondo me per fare le mele dorate Quindi non tanto per il cibo Ok stai già guardando al futuro Esatto Avantissimo Scusami Nel momento in cui siamo qua fermi Che non possiamo fare molto Anzi una cosa la possiamo fare Che cosa? Letti Davvero? Mi sa di sì Possiamo già farli? Forse abbiamo sufficiente lana Dormi che tante notte Ananna Finalmente possiamo schippare la notte Che bello Quante notti passate Ad aspettare il giorno E che non arrivassero i mob E che bella dormita Che ci siamo fatti Finalmente Bellissima Davvero dei letti comodissimi E queste piantine Sono ancora così Ok Siamo sicuri E salve Ti spacco la faccia Te lo giuro Non le puoi minacciare Ti distruggo Allora se non le fai sentire a loro agio Non cresceranno più Vedi però alcune stanno crescendo Stai dicendo quello che io penso? Che cosa? Che dobbiamo cantare? Sei sicura di questo? Sembri un cartone animato Perché? Hai presente tipo quelle Che cantano sempre? No Quando praticamente tipo Guardi quelle trasmissioni Sia per bambini Sia per ragazzi giovani Ovviamente Le guardo anch'io sinceramente E tipo è il momento di cantare Iniziano tutti a cantare Tu sei la stessa cosa Allora La stessa cosa Voglio che questa volta mi accompagni Ti lascio questo onore Quindi fai qualche rumore Andando a cantare Ah rumore Sì 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 Mi fai la base Neanche parola No no troppo Non hai ancora questo diritto Hai sempre snobbato le mie canzoni No ma io le basi non le so fare Al massimo ti faccio qualche coro Tipo 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 No Non se la sente Proprio le basi No ti prego Se non c'è una canzone È colpa di Ferinichi Sarebbero crescite le piante No senza base non canto No no Ma che cos'è Sembra un ragno È il meglio che so fare Mi dispiace Mi dispiace Io proprio di basi Non me ne intendo E poi E qua sei tu il master canterino Eh lo so Lo so Non si può competere No ma queste piante Secondo me non apprezzano il canto Perché sono tenebrose Capito Secondo me le piace il canto lirico Non ti azzardare a cantare lirico Oh bella piantina Secondo me adesso Proprio Prendono Si levano della terra E si buttano di sotto È l'unica cosa che potrei sperare Che facciano Perché secondo me non faranno altro Comunque Penso che la tua musica Uh Eh vedi Vedi no Allora canta lirico Aspetta Devo concentrare Allora Non si unisca Dai voglio provare Contieniti Dovrebbe essere una serie seria Di Skygrande Ma siamo seri Dove facciamo le cose fighe Ma siamo seri Più seri di così Scusa con la tua canzone L'hanno visto tutti L'hanno visto 30.000 consolini Perché siamo in 30.000 ormai Ok Che tu con la tua canzone Sei riuscito a far crescere La canna da zucchero Quindi questa è una cosa serissima Allora fammi concentrare Ho le lacrime Mia bella piantina Sei molto carina E cresci in fretta Mentre aspettiamo Mi è venuta un'idea Ci facciamo la chest Della spedizione Quindi per quando dovremo andare Nel neder Iniziamo a depositare lì Tutte le cose che ci serviranno E che sono fondamentali Ed eccola qui Eccola qui Allora No mettilo so Non si può mettere sopra No Ok Bravo Bravo E poi ne mettiamo un'altra qua Ma era carina Solo quella Missione speciale Perché hai fatto 200 cartelli Perché sono più belli Io intendevo di metterne uno sopra E basta Vabbè Vabbè Allora Allora Per la missione speciale nel neder Ci servirà tanta carne Assolutamente Quindi iniziamo a depositarne Delle mele che dovremmo Trasportare Trasformare Trasformare In golden apple Quindi ci serve l'oro Che inizio già a depositare Quindi qua Ok Poi ci servirà questo bellissimo diamante Piccone in diamante Ci servirà questo bellissimo Secchiello d'acqua Ok Le frecce ci serviranno Le torce ci serviranno Tantissime cose ci serviranno Beh sì Sarà davvero dura Voglio vedere un attimino se almeno una piantina è cresciuta Eh, sì, 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 sì Oh, vedi, la tua canzone ha funzionato Una è cresciuta, pum Ok, quindi me ne dà altri tre, quindi ne ripianto uno qua Ok E poi ne pianto uno qua e uno qua Ok, perfetto, perfetto Sto iniziando a crescere anche la nostra piantagione di Wart Quindi ci vorrà un bel po' per fare una stack che appunto saranno 64 pezzi Sì Quindi sono davvero tantissimi Anche perché alcune partono benissimo, altre rimangono ferme Non le sto ben capendo queste piantine Non lo so neanch'io Però le dobbiamo lasciare al loro tempo, questo l'ho capito Eh sì, assolutamente Quindi ci dobbiamo mettere l'anima in pace Tu stai farmando quella del ferro? Sì, anche se ancora non ho trovato ferro, però sì, sono nello spondo del ferro Ok, io allora vedo quella dei diamanti Ok Che sai com'è? E certo Siamo rimasti una decina di minuti fermi, ma Forse anche di più Queste piantine Così, così, ragazzi Allora, a me col ferro è andato malissimo, te lo dico Ok Sono qui da un sacco di tempo e ne ho presi solo due Bene, 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 perfetto Direi che siamo vicini a farci due armature, no? Giusto? Vicinissimi Comunque, mentre eravamo fermi, ho wikipediato Ok E praticamente questa pianta qua non cambia come cresce, se c'è luce, non c'è luce, insomma, queste cose non variano nulla L'importante è che sia nella soul sand e ha quattro fasi di cui quell'intermezzo dura due Quindi quando tu la vedi nell'intermezzo in realtà possono essere due fasi diverse E per di più tutte le fasi possono durare dei periodi casuali Quindi una può rimanere per tipo 10 minuti minuscola E una crescere fino alla fine in 30 secondi Quindi bisogna mettersi l'anima in pace e aspettare Ok, quindi non stiamo sbagliando niente noi Dato che non eravamo esperti, non siamo esperti di questo particolare tipo di pianta Almeno sappiamo che è tutto casuale Dovremmo aspettare, dovrei cantare tantissimo Sarà una lunga notte Te lo dico, dovrai cantare tantissimo E allora vado a prendere un po' di miele per la gola Sì, ti devi preparare un bel testo, capito? Secondo me con una bella canzone preparata funzionerà Allora, comunque ne abbiamo accumulato 6 Oltre a tutti quelli piantati Quindi sarà questione di aspettare Ovviamente lo facciamo tra un video e l'altro Quindi nel prossimo episodio avremo questa missione già finita Vedremo quindi la prossima isola che cosa sarà Non vedo l'ora ma sono quasi sicuro che sarà di creare il portale del nether O qualcosa che c'entra con quello Quindi non vedo davvero l'ora E direi di fermarci così Sai una cosa? Sì, dimmi Voglio dirla prima di chiudere il video Prima o poi nella wiki di Minecraft aggiungeranno Cantare per far crescere la canna da zucchero e l'iwart Vero Giustamente L'iwart è specificato a canzone lirica Ok Invece per la canna da zucchero canzone rap Ok Ok, capito? Sì, sì, sì Verrà aggiunto, ne sono quasi sicura Sarà importante aggiungere comunque i generi musicali No, i generi musicali giustamente perché altrimenti non funziona Non funziona Lo sappiamo Beh ragazzi, il video esce così Se è giusto lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao 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 Ciao